buon ballon gruppo ciclo scenegali adesso è disceso lui con calma perché non ce l'ho da qui vai dietro dietro tutti dietro piano piano state vicini Luca e Luca bellissima neve fresca fatta nella notte oggi 7 marzo 2018 ciao 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 via le tre vallee ok vai vai via passeggio luka hei va hei e abri help f***** f*****